Attento! Il semaforo è rosso. Sei fortunato a non esserti fatto nulla. Indossi dei cyberocchiali, giusto? Faresti meglio a stare più attento, soprattutto sulle strisce pedonali. Il numero degli incidenti è aumentato di recente. Le vittime, come sai, sono ragazzini come te. Alla prossima! Hm? Io? Da domani lavorerò qui. Non sono un tuo subordinato, sono un tuo superiore. È scappata. Takeru, hai fatto qualcosa? È per mamma e papà. Papà ha sviluppato l'imago. È stato il primo al mondo capace di convogliare la coscienza umana in uno spazio virtuale. Ma nonostante questo, la Megamas rubò la sua scoperta e si è schifosamente liberata di noi. Di tutta la nostra famiglia. Allora, per salvare nostra madre che è malata, dobbiamo rivendicare l'onore di nostro padre. Lo sai anche tu, no?